Nelle città invisibili, nel dialogo fra Kublai Khan e Marco Polo, Calvino ci ricorda che una città non ti colpisce per una delle sue sette o 77 meraviglie, ma per la capacità che ha di rispondere alle tue domande. Se c'è una domanda complessa, difficile che sale dal mondo giovanile è quello proprio di capire come linguaggi e spazi possono portare i giovani a essere parte integrante della comunità. Space è uno spazio fisico rigenerato sia attraverso lavori infrastrutturali che attraverso l'attivazione di azioni culturali rivolte ai giovani. Abbiamo infatti formato attraverso il progetto dei giovani manager under 35 che si occuperanno proprio della gestione della governance di questo spazio. Credo che la grande opportunità che sia stata data a questi ragazzi sia stata la possibilità di lavorare in equip, una cosa che è abbastanza rara quando si fanno percorsi di studio di questo tipo, progetti di questo tipo. Credo fortemente che Space sia stata un'opportunità molto importante per i giovani creativi del cantiere di musica contemporanea per aver potuto realizzare ex novo delle musiche appositamente per uno spettacolo. Metterei in evidenza l'opportunità di far lavorare giovani scenografi in teatri decisamente importanti. Space è stato anche una residenza artistica in cui dodici creativi si sono trovati a lavorare assieme. Provenivano dal mondo della performing art, dell'arte contemporanea e della musica contemporanea, creando uno spettacolo e confrontandosi al termine di questo lungo periodo di residenza con un pubblico reale. con la mia profonda vergogna. La vostra pevolezza è non lontana, ne ne è lato! Grazie a tutti. Grazie a tutti.